L'inverno demografico delle Marche, calano le nascite, tasso di mortalità sopra la media. Qualità del mare, nelle Marche salgono a 19 le bandiere blu. Elezioni, la Lega presenta il suo sostegno a Lanzia, aspetta Salvini a Pesaro. Altra aggressione alla polizia penitenziaria, Villa Fastigi, dodicesimo episodio in tre mesi. L'arte comica di Fabio De Luigi in cattedra per gli studenti dell'Università di Urbino. Una buona serata a tutti voi amiche e amici telespettatori. e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale di martedì 14 maggio che apriamo oggi con la fotografia dell'Istat, l'ultimo censimento sulla rilevazione demografica del nostro territorio, che dice come dal 31 dicembre 2022 le Marche si hanno scese sotto il milione e mezzo di abitanti con 1.484.298 residenti. Questi i numeri che vedono perdere 2.852 individui rispetto al 2021 con un callo di 434 nascite. In presenza di una popolazione mediamente più anziana, la mortalità nelle Marche si attesta dunque superiore alla media nazionale con 13,2 per mille contro i 12,1 morti ogni mille abitanti della media nazionale. La stessa età media della popolazione si è alzata da 47,3 a 47,5 anni. Il tasso di natalità invece è passato dal 6,2 per mille del 2021 al 5,9 del 2022. Gli stranieri censiti sono 120.067, ovvero 2.247 in più rispetto al 2021 e costituiscono l'8,7% della popolazione regionale. Cambiamo argomento e parliamo di ambiente e soprattutto di qualità delle acque dei nostri mari. Sono state infatti assegnate oggi le bandiere della Foundation for Environmental Education che alle porte di ogni estate danno il sigillo di qualità per le destinazioni costiere che soddisfano rigorosi criteri ambientali. Parliamo delle cosiddette bandiere blu che nelle Marche per la prima volta salgono a 19 con la New Entry di Porto Sant'Elpidio. Per la provincia di Peso Robino il vessillo andrà alle spiagge di Gabicce Mare Lido, a Pesaro Sottomonte e a Pesaro Ponente, a Fano, Torrette, Sassonia, Nord e Lido e a Mondolfo Marotta. E passiamo alla politica continua, alla nostra marcia di avvicinamento verso le elezioni amministrative dell'8 e 9 di giugno. Oggi, in tal senso, per quello che riguarda la città di Pesaro, si è presentato il gruppo della Lega in corsa a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Lanzi. La Lega si presenta alla città di Pesaro in vista delle elezioni amministrative di giugno a sostegno del candidato sindaco Marco Lanzi e della coalizione di centrodestra. Tra consiglieri comunali uscenti e dirigenti locali che si preparano alla corsa di giugno, la figura della capolista è stata individuata nel consigliere comunale Dario Andreolli. La nostra lista è una lista che ha posto all'interno della coalizione a sostegno di Marco Lanzi sindaci contenuti ed esperienza, come dimostra la presenza di ben quattro consiglieri comunali uscenti all'interno della nostra lista. Una lista che si compone di uomini e di donne, di giovani, di professionisti provenienti dal mondo della scuola, dal mondo dell'impresa. Noi abbiamo posto da subito il tema a Marco dei contenuti, della qualità dei contenuti, contenuti di discontinuità rispetto al passato, per avere una Pesaro realmente provinciale, per avere una Pesaro che non si basa più la sua azione amministrativa negli annunci, ma nella concretezza delle scelte. Ecco, la Lega che è un partito che ha nel pragmatismo la sua forza e la sua volontà e la sua capacità di governo, ha posto a Marco questo tema e siamo stati molto ascoltati all'interno del programma che abbiamo steso come coalizione. Sono vari i temi trattati dalla Lega durante la presentazione, così come le iniziative proposte, che spaziano dalla sicurezza al terzo settore, passando per la riqualificazione della città e del verde urbano. Noi riteniamo di avere le qualità nella nostra città, le qualità come coalizione, di poter rappresentare una svolta e un punto di cambiamento per la città. In queste settimane il candidato avversario Andrea Biancani sta dimostrando di non avere contenuti per questa città, di non avere una visione programmatica e di porre solamente una volontà di essere contro qualcuno, contro la regione, contro il governo nazionale, mai a favore della città. Ecco, noi siamo un qualcosa di diverso. Quali sarebbero le prime proposte che portereste come maggioranza in caso di un istiletti? Ma innanzitutto una giunta che si occupi della qualità del vivere, che abbiamo detto che è rappresentata dalla qualità delle scelte sul lato delle manutenzioni, pensiamo alle strade con l'abrodo che abbiamo in giro, ai marciapiedi, alla cura dei parchi, agli investimenti per le scuole che vogliamo raddoppiare, una proposta che porta ad una volontà di dare una forte discontinuità nelle politiche ambientali che non si fanno con scelte ideologiche ma con scelte concrete. Non si può scendere in piazza con i ragazzi dei Friday for Future e allo stesso tempo sottrarre risorse all'ambiente tramite i dividendi di Marche Multiservizi per mettere la spesa corrente. Ecco, noi vogliamo che quelle risorse vengano destinate ad investimenti per l'ambiente, per i rifiuti e per l'acqua. E giovedì la Lega di Pesaro riceverà anche la visita in città del segretario Matteo Salvini che alle 15 sarà all'Hotel Charlie per presentare il suo ultimo libro Controvento, l'Italia che non si arrende. Nuovo e grave episodio di violenza verificatosi questa mattina al carcere di Villa Fastigi dove un detenuto di 40 anni per motivi legati al mancato rispetto delle norme di sicurezza ha aggredito un sovrintendente e un assistente di polizia penitenziaria. L'incidente ha costretto due agenti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Si tratta di un attacco che porta a 12 il numero totale di aggressioni al personale dal febbraio di quest'anno, segnalando una situazione di crescente tensione all'interno dell'istituto considerando che nonostante le stesse condizioni di sovraffollamento e carenze di personale che caratterizzavano già il 2023 l'anno precedente aveva registrato solo due eventi critici. La panificazione rappresenta una forma di artigianato millenaria che diventa sempre più precaria. Riflessioni e preoccupazioni che sono state esternate a Pesaro in occasione dell'evento nazionale proposto in città dall'Associazione Nazionale Panificatore di Confesercenti dal titolo Cultura Panis. Pane come cultura, tradizione, condivisione e risorsa da preservare Confesercenti Pesaro Urbino ha ospitato nelle weekend l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Panificatore di Confesercenti dal titolo Cultura Panis un'iniziativa per valorizzare la tradizione dei panni d'Italia che rischia di essere sempre più precaria. I mastri fornai di Fiesa Panificatori Confesercenti hanno infatti esposto a Palazzo Gradari i loro prodotti regionali provenienti da ogni angolo della penisola. Un'esposizione alla quale è seguito il convegno sul futuro della panificazione artigianale nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Parte dall'anno scorso un'idea di presentare il pane della pace anche in questa città prima era stata Ferrara e ho insistito con la mia associazione molto importante in tutta Italia di dire perché non presentare in questo momento di grandissime difficoltà presentare il mestiere del fornaio e il pane. Come vedete abbiamo portato tutti i panni d'Italia nella rappresentazione. Vogliamo farvi capire quanto è importante l'assunzione del pane tutti i giorni e comprarlo fresco dal fornaio perché? Perché il fornaio artigiano sta scomparendo, signori miei, e ci perdiamo una cultura, una cultura molto importante, millenaria. Io sono qua a Pesaro perché ho un carissimo amico che è Pagnoni, vicepresidente al suo panificatore nazionale, che se guardo la sua storia che parte dal nulla ed è riuscito da ragazzino, da fattorino, ha fatto tantissimi mestieri, riuscire a imparare quest'arte che oggi oltretutto è riuscito a passare a quest'arte ai figli e mandare avanti questa tradizione non è facile. Abbiamo pensato di inserire questi due giorni per una cosa talmente per noi ovvia perché siamo fornai che più della natura del fornaio non c'è chi fa il pane. Però siccome viviamo in un momento di un po' di crisi, un po' di difficoltà in tutti i sensi, cominciando dal trovare il personale, e perciò cerchiamo di sensibilizzare la gente che venga nei nostri negozi a acquistare il nostro pane. È un evento nazionale organizzato da Confesercenti nazionale e noi siamo contenti di ospitare questo evento in occasione di Pesaro Capitale della Cultura perché è un modo per far conoscere come fa Confesercenti da tanti anni il nostro territorio, il lavoro dei nostri associati, il lavoro di tutta una comunità. Siamo qui proprio per far vedere e per portare l'originalità di questo prodotto. Oggi purtroppo ci troviamo spesso a combattere con prodotti che vengono da fuori territorio nazionale, spesso anche internazionali, quindi che vengono semplicemente surriscaldati o riscaldati all'interno dei nostri grandi magazzini. Invece oggi vogliamo far capire quali sono le origini e quali sono le proprietà più importanti che il pane ci riserva. Una mostra, un convegno e un gesto di condivisione con la Caritas che ha visto la domenica la distribuzione di 3.000 panini della pace in 11 parrocchie di Pesaro al termine della principale messa domenicale. Questo vuol dire anche un occhio particolare anche al momento sociale in cui viviamo. Verrà distribuito gratuitamente il pane, perciò continua anche quel servizio che viene dato ai cittadini da anni dai nostri panificatori. Dopo 22 anni cambia la presidenza dell'Associazione di Confcommercio Marche Nord Terziario Donna. Vediamo. Terziario Donna, associazione di Confcommercio Marche Nord dedicata a sviluppo e tutela dell'imprenditoria femminile, ha una nuova presidente. Si tratta di Claudia Parmegiani, che succede a 22 anni di presidenza di Patrizia Caimi. Un'elezione del nuovo consiglio direttivo è avvenuta questa mattina nell'ambito dell'assemblea annuale che ha eletto anche la stessa Caimi in qualità di presidente onoraria. E' emozionata, piena di gioia, di orgoglio, un bel senso di responsabilità perché insomma prendo il posto di una super presidente, quindi Patrizia Caimi, passa a me le redini e mi riempie di orgoglio, di felicità, ma anche di impegno. Colgo l'occasione per ringraziare Patrizia Caimi che con grande amore e impegno per ben 20 anni è riuscita a tessere reti fondamentali tra le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino realizzare eventi, convegni e momenti di formazione straordinari. Imprenditrice dell'azienda Vesti il Lavoro, Claudia Parmegiani sarà presidente di un consiglio direttivo che sarà composto da Stella Scarpa e Elisa Scola come vicepresidenti, oltre a Valentina Arsenia, Adele Cerisolio, Alessia Tambosteva, Martina Carloni, Emanuela Rossi, Sara Muratori, Sabrina Cosima Fortunato, Alessia Morelli e Deborah Papisca. Terzero Donna è un gruppo che supporta le imprenditrici, quindi tutte le imprenditrici della provincia di Pesaro Urbino possono rivolgersi a noi, Terzero Donna, del gruppo di commercio Marche Nord, e facciamo rete, facciamo associazione, cresciamo informazione ed esperienze. Ed ora ci spostiamo ad Urbino, dove oggi gli studenti dell'Ateneo hanno ricevuto la visita del popolare attore Fabio De Luigi per un confronto dedicato al mestiere di comico. Amiche e amici di Rossini TV, siamo di fronte all'ingresso di Palazzo Battiferri ad Urbino. Qua questa mattina, l'attore, autore, comico e regista Fabio De Luigi terrà una conversazione con il professor Igor Pellicciari sul tema Il comico è un lavoro serio. Andiamo a conoscere naturalmente sia Fabio De Luigi che tutti i protagonisti di questa mattinata e facciamo seguire per tutti i telespettatori di Rossini TV questo appuntamento così importante organizzato dall'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo. Interessa sapere se si nasce comici o si diventa comici e quindi se il comico è un lavoro serio, come in realtà è, perché Fabio, che conosco da una vita, è principalmente un grande attore. E poi la cosa anche che interessa, secondo me, da una prospettiva urbinate, è la sua scelta di vivere a Sant'Arcangio di Romagna, cioè un posto piccolo da cui lavorare. Quindi forse oggi la dimensione piccola ti permette di lavorare meglio, che poi è anche il punto forte di Urbino, dove gli studenti non sono delle matricole, ma sono studenti. E quindi penso che sia un abbinamento molto attuale in questi periodi. Io credo che ci si nasca fondamentalmente, cioè la comicità è difficile insegnarla. Sicuramente se hai la fortuna, perché per me è una fortuna di avere questo talento, come ne esistono tanti altri, come quello sia per cantare o di saper fare delle cose, poi devi, con la consapevolezza, di avere in mano una cosa preziosa, cercare però di migliorarla, di lavorarla, e di migliorarla, insomma. Quindi ci si nasce, ma poi ci si deve lavorare su. Io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, non pensavo che avrei fatto il comico, che avrei fatto questo, cioè lo volevo fare come sogno, ma però tutto serve. Quindi il consiglio che darò è quello che dicono tutti, che è quello di cercare di avere delle passioni, di rincorrerle e di essere curiosi, questo serve. E qualunque cosa si faccia all'interno di un'università, a volte si compiono studi che poi sembra abbiano poco a che fare con quello che poi farai, ma non è così, perché servono a formarti anche come individuo e sono degli strumenti che ti possono portare a fare quello che vuoi fare. Diciamo questo evento, insieme a quello di Fiorello della settimana prossima, sono due iniziative rivolte agli studenti per far capire che pensare al futuro, al proprio futuro professionale non vale solo nei contesti più tradizionali, ma anche nello spettacolo, nella creatività. Quindi abbiamo avuto questa idea e questa possibilità di contattare due personaggi ovviamente molto popolari e speriamo che questo possa far capire ai nostri giovani che è importante appunto, che i sogni sono importanti, perché immagino che entrambi, sia De Luigi che Fiorello, quando avevano l'età dei nostri studenti e delle nostre studentesse, ovviamente avevano dei sogni che sono riusciti a realizzare, quindi vogliamo capire anche che cosa, insomma, qual è il percorso che hanno seguito per raggiungere questo risultato. Il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese Alberto Carelli ha avuto oggi il suo primo incontro con i direttori delle unità operative dell'ospedale Santa Croce di Fano. Prima riunione per fissare le priorità e dare risposta a questioni relative alle specialità del nosocomio fanese, reputato da Carelli, un riferimento nel quale di cercare di colmare al più presto le carenze in tema di assunzioni. Passiamo agli spettacoli nel trentennale dell'Orchestra Sinfonica Rossini, giovedì 16 maggio alle 21, al Teatro Rossini di Pesaro si chiuderà la stagione concertistica Maxi 2023-2024 con il concerto Carmen Fantasy. Ed ora lo sport. Strepitosa vittoria ieri sera per l'Ital Service che ha battuto la capolista Olympus Roma in gara 2 dei quarti di finale Scudetto, guadagnandosi così la bella per accedere alla semifinale. Una strepitosa Ital Service davanti ad un Palamega a Boxing Festa si guadagna gara 3 dei quarti di finale Scudetto. Dopo la netta sconfitta Roma per 6-1 a Pesaro la squadra di Scarpitti si prende un'esaltante rivincita battendo 5-3 i capitolini dopo tempi supplementari. Ora si andrà allo spareggio di gara 3 fissato per venerdì 17 maggio alle 19 al Palaulgiata di Roma. Pesaro ci arriva dopo essersi cucita addosso un lunedì da grandissima squadra fin dall'approccio ruggente premiato dal vantaggio fornito da un autorete di cutrupi dopo 5 minuti. 1-0 al primo tempo e Olympus che si rifà sotto nella ripresa pareggiando con Tres. Pesaro però c'è e si riporta avanti con Murillo Schiochette ma l'ex Marcelinho pareggia su rigore portando 2-2 la sfida e trascinandola ai supplementari. All'Overtime Proalital Service dà il meglio di sé ed è flagra con tre reti di Vavà Caruso e Schiochette che valgono il 5-2 prima del 5-3 definitivo di cutrupi. Sicuramente oggi è da fare complimenti ai ragazzi e alla squadra perché sono stati strepitosi abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità in un palasporto fantastico pieno di gente che ci ha sostenuto e abbiamo dimostrato di essere vividi non essere la squadra che si era vista a Roma di essere una squadra che vuole dire la sua in questi play-off. Sono contentissimo e c'è poco a dire un abbraccio a tutti i tifosi soprattutto ai nostri under che sono stati a darci la spinta tutta la partita e ragazzi strepitosi. Dal calcio 5 passiamo al ciclismo proprio a pochi giorni dall'arrivo della carovana rosa del Giro d'Italia che prevede per giovedì l'arrivo di tappa a Fano la settimana è cominciata con un altro grande evento di ciclismo la Gran Fondo Squali Track che tra Gabice Mare e Cattolica ha registrato un record di partecipazione. L'edizione 2024 della Gran Fondo Squali Track ha battuto ogni record. L'evento ciclistico che da nove anni unisce Cattolica Gabice Mare e Parco del San Bartolo a colpi di pedale ha fatto segnare la cifra da primato di 3.200 partecipanti all'evento principe domenicale di una corsa ciclistica divisa su tre percorsi che ha visto la vittoria di Davide Leone e Michilagorini sul percorso medio da 85 km e i successi di Pietro Sarti e Vanessa Santeliz sul percorso lungo da 128 km successi agonistici in mezzo ad una festa del ciclismo per ogni tipologia di appassionato della bicicletta. Veramente quest'anno è uno spettacolo l'averla fatta anche in condizioni critiche che era quella dell'anno scorso ma l'averla portata a termine e il premio è quest'anno per chi c'è stato per chi vede uno spettacolo del genere con oltre 3.000 ciclisti abbiamo triplicato in nove anni in nove edizioni abbiamo triplicato il numero e tantissimi ci stanno scrivendo e non vedo l'ora che riapra le iscrizioni per il 2025. Qui c'è una duplice componente ci sono gli agonisti e ci sono i fedelissimi quelli che tornano per divertirsi perché gli piace tutto l'ambiente della Gran Fondo le Gran Fondo sono divise in due ci sono gli agonisti che vengono per gareggiare e ci sono quelli che vengono per pedalare per magari vedere un territorio nuovo per scoprire le bellezze del territorio dove si trovano in quel momento e i ristori quindi al di là del risultato noi privilegiamo anche chi viene qua con le famiglie che poi magari ritorna perché si innamora di questi posti e ritorna per il periodo estivo e questo è il valore aggiunto di un evento di questo genere e si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News ma proseguono gli spazi informativi in questo martedì 14 maggio subito dopo il Tg alle 20 vi proporremo il nostro speciale dedicato a Winetour questo forma dedicato alla natura alle esperienze e alle conversazioni in tema ambientali siamo andati al parco Miralfiore ad approfondire le tematiche di Winetour in questo speciale che vi mostreremo a partire appunto dalle 20 e poi come ogni martedì amministrando verso le elezioni 2024 questo format di confronti politici che vedrà come ospiti del nostro Antonio Astuti questa sera Daniele Vimini vice sindaco di Pesaro nonché esponente del Partito Democratico e Alessandro Bettini di Fratelli d'Italia come detto alle 21.20 e poi vi ricordo che l'informazione di Rossini TV come ogni mattina torna puntuale domani alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali sempre rigorosamente in diretta condotta in questa edizione di mercoledì 15 maggio dalla nostra direttrice Emanuela Rossi e si conclude invece qui lo spazio informativo serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi